Ehi, torni un po' indietro, aveva preso qualcosa. Eccola. Ecco qua, catalogato il 4 novembre 1982, Pulsar. Io trovo importante che lei ascolti. Quasi nessuno ascolta più. Beh, è una vecchia abitudine, mi fa sentire più vera. Che studiate lassù? Lavoro in un programma chiamato SETI. Ricerca di intelligenza extraterrestre? Che cosa mitica, eh? Questi telescopi appartengono al governo, che li può noleggiare a chi gli pare e che ora non vuole che la grande sacerdotessa del deserto continui a usarli. Abbiamo tre mesi prima che la burocrazia ci sfratti. Parla di miei ragazzi! Ok, tutto d'origine confermato. Qualunque cosa è, non è in zona. Vega? Non può essere, dista 26 anni luce solamente. Sono numeri primi. Due, tre, cinque, sette, sono tutti numeri primi. Non è possibile che sia un fenomeno naturale. Beh, chi chiamiamo adesso? Tutti quanti. Raccomanderò al presidente di militarizzare questo progetto immediatamente. Non c'è ragione di ritenere che le loro intenzioni siano osti. Sì, abbiamo trovato queste sezioni. All'inizio pensavamo che fossero rumori di fondo, ma in realtà sono dati in quantità enorme. Noi crediamo che il messaggio contenga istruzioni per costruire qualcosa. Una sorta di macchina. Una macchina? Addirittura un mezzo di trasporto. Questo non è dimostrato. All'inizio pensavamo che hai dietro un mare. Grazie.